del primo salone specializzato nella cura del capello riccio tira baci parrucchieri insieme al coro del capello riccio tira baci parrucchieri insieme al coro del capello riccio tira baci parrucchieri insieme al coro del capello riccio tira baci parrucchieri e per vedere tutti i servizi basta andare sul sito www.tira baci parrucchieri.it giusto giusto il salone si trova in via Pasufio 11 grazie a tutti grazie a tutte le modelle grazie alla ballerina Anna grazie speciale a Federica e Leonora le mie collaboratrici Simone Ferraro per le foto anche grazie a Don Angelo per averci ospitato e Francesco Contasabile per averci chiesto di lui